Salve e benvenuti in Top4Spy. Oggi vi presentiamo delle microcamere audio e video occultate in telecomandi per auto. Come possiamo vedere abbiamo diversi dispositivi. Questi dispositivi hanno tutte caratteristiche simili, quello che cambia è l'estetica. I dispositivi sono occultati in chiave auto, come possiamo vedere è una classica chiave auto, una delle più comuni e diffuse. Poi abbiamo quest'altro modello qui, che è una chiave per auto un pochino più sportive. Questo telecomando, a differenza degli altri prodotti, ha anche l'attacco HDMI, poter collegare direttamente in altissima risoluzione e scaricare i file, vedervi in diretta. Poi abbiamo chiave auto Citroen e poi abbiamo dei telecomandi universali, possono essere utilizzati sia come chiave auto oppure come apricancello o altro. Allora, andiamo a vedere nello specifico. I telecomandi hanno tutti quanti una telecamera integrata audio e video in alta risoluzione 1080p, con microfono omnidirezionale fino a 5 metri, che ci permetterà di registrare audio e video in maniera nitida e chiara. Tutti i dispositivi ci danno la possibilità di eseguire registrazioni sia audio e video in continuato, sia audio e video col movimento, quindi si attivano solo quando passa qualcuno, oppure possiamo scattare delle foto. I dispositivi hanno un ingresso per micro SD card, quindi possiamo inserire una micro SD card fino a 32 giga e poi una volta eseguite le registrazioni possiamo scaricare il tutto direttamente dal computer. I dispositivi hanno un'autonomia di 2 ore di registrazione effettiva, questo significa che se vengono impostati con l'attivazione continuata farà un totale di 2 ore, invece se mettiamo quel movimento si attiverà solo quando c'è un movimento, quindi risparmierà anche la memoria che può durare in stand by anche diversi giorni. I dispositivi sono di fascia professionale e sono disponibili presso il nostro negozio o direttamente sul nostro sito. Vi ringraziamo per averci seguito e ci vediamo al prossimo video.